Salve ragazzi, come state? Io sono Briller e sì, mi stanno veramente italianizzando Mi stanno italianizzando tantissimo Oggi sono andato a farmi un taglio dei capelli E guarda cosa mi hanno fatto questo stile nuovo che non avevo mai avuto E mi ha chiesto semplicemente, la vuoi la riga? E senza sapere cosa fosse, ho detto sì, proviamola questa riga Ed è uscita questa cosa, e adesso sì, mi stanno veramente italianizzando Eppure se avete anche visto la mia ultima foto su Instagram Vedendo quella giacca, sapete adesso sì, senza dubbio Che sono italianizzato ormai e non sono più americano E da ora in poi mi chiameranno Briano o qualcosa del genere Ragazzi, oggi sono qui per condividere 6 cose che gli italiani sono i più bravi a fare Perché ho fatto questa lista? Perché mi sono reso conto che voi siete gli unici Che per quanto ne so io, bravissimi a fare queste cose Per quanto riguardano queste 6 cose Prendi un italiano per farlo perché lui o lei lo farà meglio di chiunque altro Ecco La prima cosa è Lo sapevate da Lo sapevate già doppiare Chi non ha mai sentito un italiano dire Gli italiani sono bravissimi a doppiare Io l'ho sentito così tante volte che è arrivata in questa lista Doppiare è una cosa molto importante in Italia Ovviamente un americano non sarebbe bravo a doppiare Perché noi non doppiamo niente E un sacco di altri paesi non doppiano niente Detto questo, sì, sono d'accordo Ho sentito molti programmi doppiati dagli italiani E la lingua è così chiara, fluida, liscia, giusta, perfetta Buono per me capire Quindi grazie ai doppiatori che mettono quell'italiano benissimo Cioè, bellissimo Molto chiaro da comprendere E mettono anche quell'emozione che serve quando doppi qualcosa Devi avere l'emozione dell'attore che stai doppiando E secondo me forse alla fine per migliorare l'inglese Per imparare meglio l'inglese Sarebbe meglio lasciare i doppiatori E lasciare l'inglese nel programma o qualcosa del genere Ma detto ciò, doppiatori bravi La seconda cosa in cui gli italiani sono proprio i più bravi È l'ospitalità Non so se avete mai ospitato qualcuno Ma conosciamo tutti la mamma italiana Quella che ti dà mille cose da mangiare E se non sei soddisfatto Farà mille altre cose ancora Questo l'ho imparato quando è venuta la mia famiglia in Italia E siamo stati qui in questa casa Da Sonia e la sua famiglia Sono stati incredibili Era come se venisse il presidente americano Hanno dovuto pulire ogni singolo angolo della casa Erano completamente preoccupati Di cosa avrebbero pensato i miei Mio fratello, mia sorella, eccetera Quindi hanno fatto di tutto E poi quando sono arrivati c'è stata Proprio non so come si dice in italiano A feast Però è stato tipo un pranzo da Dio E ho pensato Se voi doveste venire da noi in America Sicuramente rimarreste delusi Perché non siamo così bravi con l'ospitalità Era una cosa spettacolare Ho imparato tanto da questo E ho capito tipo Gli italiani, mamma mia Cioè offrono così tanto Quando vai a casa loro Quindi bravi con l'ospitalità pure La terza cosa E so che sarete d'accordo con me in questo È che siete esperti Per quanto ne so In arte e letteratura Gli americani studiano cose più pratiche In Italia si studiano cose più teoriche Arte e letteratura Ne sapete molto più di un americano chiunque Io ad esempio non ne so molto neanche di letteratura inglese Quindi c'è gente che studia letteratura inglese in Italia Che la conosce molto meglio di me Che sono americano E dovrei saperlo un po' di più Ma arte, letteratura Memorizzare delle poesie Riuscite a recitare a memoria 20 poesie che avete dovuto memorizzare Cioè alle scuole elementari In America chiaramente non faremmo mai questo Non sapremmo mai fare quel lavoro Quindi bravi arte, letteratura, esperti L'Italia è un paese pieno di arte E cultura e letteratura eccetera Con i musei Quei sentimenti bravi italiani Ottimi, bravi La quarta cosa Sono i Come aspetta L'ho dovuto scrivere Perché non so pronunciare Diagnosi mediche Diagnosi mediche Medical diagnosis Ovvero quando qualsiasi persona sta male Un italiano tipico a quanto ho visto e capito io A lui piace dare la sua opinione a lungo Su cosa pensa sia il problema Se faccio Se stiamo benissimo e faccio tipo Lui farà Allora Secondo me Visto che è tossicato Adesso così Secondo me Hai presente che tre ore fa abbiamo aperto quella finestra? Ecco secondo me quel cam... Cioè inizia a fare un discorso lunghissimo Su un diagnosi medico Non so Mi sembra che siete in fissa con medicina E tipo la salute e stare bene Fa ridere perché tutti dovrebbero essere in fissa con la salute Però a voi piace proprio discutere Mettere le opinioni E dire quello che ne pensate di una persona che sta male Tipo secondo me è stato il fatto che E poi si parla a lunghissimo di queste cose Andiamo ragazzi alla quinta cosa La quinta cosa ha un po' a che fare con l'ospitalità Ma è semplicemente la generosità Gli italiani secondo me Nella mia esperienza sono i più generosi di tutti Cioè quando devono dare un regalo Danno qualcosa più di quanto magari si aspetta O se vai a casa di un altro Aspettati comunque un regalo da parte Cioè nel senso se io ho un migliore amico Quel mio amico mi chiama e dice Stasera facciamo un aperitivo da me Io lo so che in Italia sono obbligato a prendere e portare qualcosa In America nella stessa situazione non lo dovrei fare Cioè posso andarci con mani vuote Ma in Italia proprio devi andare Devi spendere qualcosa e portare qualcosa ad una festa Altrimenti sei maleducato E per questo motivo diventano tutti molto generosi Anche con dare regali come dicevo Magari per una persona che non conosci bene Daresti tipo una cosa di 5 euro Invece in Italia darebbero una cosa di 30 euro Questa sto parlando della mia esperienza Secondo me gli italiani sono tanto tanto generosi Con regali e tipo Questo scambio di cultura tipo Mi offri questo? Allora io ti do questo Deve essere una cosa grossa così E per finire questa lista E questo forse secondo me è il più importante di tutte le cose Gli italiani sono senza dubbio nella mia esperienza I più bravi a elaborare, discutere e parlare a lungo di tutto Quando vai ad un evento in Italia Se vuoi vederti con un amico Se vuoi fare qualsiasi cosa Principalmente cosa che si fa in Italia Ti metti al tavolo e parli Per ore E ore E ore E ore E ore L'unico motivo per cui mi sono reso conto di questo così chiaramente È perché io sono americano E quando parlate a lungo Per così tanto tempo Io il mio cervello inizia ad esaurirsi Cioè si esaurisce Dopo 5 ore Quando arriviamo a 5 ore Inizio a uscire dalla conversazione Perché ci devo mettere un po' Quando sto ascoltando e parlando italiano Se è inglese sì Non ci vuole niente E posso fare tutto Senza spendere un centesimo di energia dal cervello In italiano ci devo mettere qualcosa Quindi dopo 5 ore Quel gas tank per dire È vuoto È esausto Non ce la faccio più Però purtroppo L'italiano parlano molto più di 5 ore Anche 9 ore Vai a casa di un tuo amico alle 7 E parli fino a tipo le 3 di mattina Forse non alle 4 Però alle 3 di mattina Quindi 8 ore Si può veramente fare Io a quel quinto ora In questo caso a mezzanotte Direi Ragazzi io vado a strarmi sul divano Perché non ce la faccio più A parlare così a lungo Così voi fate pure Per voi non è niente parlare per così tanto tempo Amate socializzare Da morire Ed è una cosa italiana Cultura italiana Parlare per tanto Tanto tempo Quindi è una cosa In cui siete i più bravi Bravi Ragazzi se state imparando l'inglese Volevo ricordarvi che Ho un canale in cui insegno l'inglese Con tanti video Molti più di questo canale Perché ci sono molti più contenuti Su Bringlese E ho anche un podcast Che si chiama The Briller Podcast Se volete ascoltarmi in inglese Migliorare Parlo chiaramente Non lentamente Ma chiaramente Per dare un contenuto in più Per chi vuole ascoltare E migliorare Il listening In inglese Per il resto Ragazzi è stato un piacere E come sempre Ci vedremo Alla prossima Ciao Scusate Intendevo dire Peace Ciao Ciao